Auto parcheggiate abusivamente sui posti riservati e disabili. Anche a Piacenza purtroppo il fenomeno è molto diffuso. A parlare sono le 121 multe elevate dalla Polizia Municipale da gennaio a settembre 2017, una sanzione ogni due giorni. La multa monta 85 euro e volano via anche due punti dalla patente. Si rischia anche il penale. Per legge le persone disabili hanno diritto a un posto auto che consenta loro di parcheggiare sotto casa o nelle aree pubbliche. Molto spesso a parcheggiare in questi posti sono soggetti in ottima salute e non autorizzati. Bruno Galvani, responsabile nazionale della fondazione Anmil, in carrozzina dopo un infortunio sul lavoro, si batte da anni affinché i diritti dei disabili vengano rispettati. Ci ha accompagnati in centro storico a Piacenza a bordo della sua auto per mostrare le difficoltà a reperire un posto soprattutto nei giorni di mercato, il mercoledì e il sabato, quando le aree per disabili vengono occupate dalle bancarelle. A Piacenza il numero totale dei parcheggi disabili è significativo, sono quasi 800, pertanto direi che negli anni sono stati realizzati gli stalli idonei. Il problema è trovarli liberi perché sappiamo che ci sono due problemi. Sostanzialmente uno è che non sono dislocati soprattutto il giorno di mercato nelle zone giuste, secondo perché purtroppo l'utilizzo del tagliando non sempre viene fatto in modo corretto, a volte addirittura anche dei familiari di disabili e questa è una cosa particolarmente grave. Andiamo allora. Proviamo. Come si nota nei dintorni non ce ne sono, adesso tentiamo dietro Piazza Cavalli. Qui siamo in Piazza Cavalli, ci sono gli ambulanti e quindi i posti per disabili sono già occupati dalle bancarelle. Esatto, sono proprio qua vicino al Gotico, sono quattro, però il problema è che sono inutilizzabili, il mercoledì e il sabato mattina. Bene, allora tentiamo in Piazza Sant'Antonino. Ecco siamo arrivati in Piazza Sant'Antonino, vediamo il parcheggio di disabili e ovviamente è occupato. Ecco ne abbiamo uno. Possiamo parcheggiare? No, non possiamo in nessun modo parcheggiare perché questo che è libero è riservato solo a quella persona. Sarebbe importante che poter vedere, avere una mappa per vedere dove sono i parcheggi liberi. Siamo in via Vescovado. Via Vescovado c'è il 500, sul tagliando ovviamente regolare. Dopo oltre mezz'ora di ricerca Galvani è stato costretto a gettare la spugna ed è tornato a casa. Francesco Rabboni, consigliere comunale di Forza Italia, si appella al buon senso dei cittadini. È veramente una cosa che crea un disagio per il fatto che gli spazi per i disabili sono un po' più ampi e quindi il raggio di manovra è più ampio. Magari non fanno con cattiverie o perché, semplicemente perché magari non ci pensano quanto sia effettivamente importante fare in modo che i tanti disabili che per fortuna guidano la macchina possano parcheggiare nel spazio più ampio possibile. Intanto però l'insensibilità di alcuni automobilisti supera i limiti, c'è chi parcheggia direttamente sulle rampe per disabili. È accaduto nei giorni scorsi in Viale Sant'Ambrogio.